Una grande stella in campo, vogliamo ballare anche qui all'Olimpio? Guarda, io spero di no, perché la mia esperienza con ballando è finita, è finita bene. Oggi spero di giocare a calcio, altro che, tra l'altro, la mia squadra, la Lazio, ha appena segnato, quindi avete portato fortuna. Hai visto? Io sono venuta appositamente perché volevo farti segnare un gol. Grazie, io spero di entrare. Sono qua in Anse, che ha spiato il mister, che è lì a bordo campo, se potete guardarlo, ecco di là. E sto aspettando, sto aspettando che mi chiami, perché se no io sono qua, sono carico. E poi dopo la partita balliamo ovviamente. Balliamo, tu vuoi che io balli, no? Sì. Ho capito, vabbè io ci proverò dopo la partita, non in campo però. Non in campo, non in campo.